La riqualificazione di Pordenone con opere e sistemazioni non si ferma e anzi proseguirà anche nel prossimo futuro. A certificarlo è il DUP, acronimo che sta per Documento Unico di Programmazione, approvato nei giorni scorsi da Giunta e Consiglio Comunale, il Sindaco Alessandro Ciriani. Ci sono altri 25 milioni di euro di investimento. Ora, io non posso, non sono la persona adatta a dare un giudizio sulla qualità di questa amministrazione, però sicuramente ciò di cui non ci si può accusare è quello di non aver reperito risorse, di non averle investite nelle opere fondamentali per questa città, per averle cambiato il volto. Parliamo di investimenti sulle strade, sugli edifici pubblici, sulle strutture sociali, sugli impianti sportivi, sulla messa in sicurezza, tanti soldi sulle scuole. Insomma, un netto cambio di passo che fa ben pensare. E sono tutte opere, come ha sottolineato bene anche l'assessore del bilancio Burnic, che non sono scritte sul libro dei sogni, ma sono in realtà soldi reali, ormai entrati nelle casse del comune, che verranno riversati da qui al maggio del 2021. Risorse e opere elencate nel DUP non sono fittizie, ha ancora spiegato il sindaco, ma sono finanziate e verranno realizzate, senza peraltro aumentare tasse e tributi comunali. Il DUP scatta anche una fotografia positiva dei dati sulla popolazione residente e il mercato edilizio in città, l'assessore Cristina Mirante. Ci riteniamo molto soddisfatti perché la popolazione residente in contrattendenza al resto della regione è in aumento, ed è in aumento con un processo di microimmigrazione da parte di italiani che decidono di venire ad abitare qui, dal conurbamento, dall'esterno, arrivano in città. E lo dimostrano i dati delle compravendite, soprattutto sull'usato, quindi su appartamenti già esistenti, che è tornato a dei livelli molto superiori a quelli pre-crisi. Parliamo quasi di 6.000 contratti soltanto nell'anno 2018, quindi ottimi segnali di una città attrattiva dove le persone decidono di venire ad abitare.